Multimetro digitale Velleman DVM892N. È uno strumento in categoria 2 e 3 fino a 600 volt e quindi può essere utilizzato su installazioni civili e industriali. Risoluzione di 3,5 digit 2000 count su un ampio display a 4 cifre. Con ben 24 portate permette la misura di tensioni, correnti, resistenze e temperature. Ha un'impedenza d'ingresso di 10 mega ohm e una precisione sulla misura compresa tra lo 0,5 e il 2,5%. Possono eseguire misure in continua alternata per tensioni da un minimo di 100 microvolt fino a 700 volt e correnti comprese tra 1 microampere e 15 ampere. Quanto riguarda la temperatura, tramite la termocopia in dotazione sarà possibile acquisire temperature comprese fra i meno 50 e i più 800 gradi centigradi. Potete inoltre verificare l'integrità di tutti i componenti attivi a semiconduttore quali Dio di transistor, BJT, MOSFET e IGBT e leggere direttamente la tensione di soglia sull'ampio display. È disponibile la comodissima funzione di test batterie con la verifica della tensione sotto carico. Infine è dotato di un buzzer che permette di fare il test di continuità, ha la funzione di hold della misura e l'autospegnimento per inattività. Insomma uno strumento completo e affidabile per tutte le esigenze dello sperimentatore elettronico ed elettrico, disponibile su Futura Elettronica. Con il fondo scala impostato a 2000 ohm misuriamo la resistenza commerciale da 220 ohm. Alimentiamo la resistenza con 22 volt. Effettuiamo la lettura di tensione in continua. Col multimetro posto in serie effettuiamo la misura di corrente. Utilizzando la termocopia in dotazione andiamo a vedere la temperatura della resistenza. Test di continuità. Verifica dell'integrità di un diodo. Tramite puntali si può vedere la tensione di soglia di conduzione. Significa di una batteria 9 volt collegare i terminali in modalità amperometro. Il multimetro fornisce la tensione di batteria a carico. Multimetro Velleman DVM892N in distribuzione da Futura Elettronica.